Raga, comunque sono successi un sacco di cose Abbiamo festeggiato un 10k di Max su Instagram Abbiamo ballato e festeggiato tutti insieme come dei pazzi Raga, vi lascio al video E io, bella raga Oggi andrò a fare il mio primo tatuaggio Cioè, non vedo l'ora davvero Sono un po' in alto Però sti cazzi Mi porterò ovviamente con me E raga, da tanto che non vloggavo Infatti mi sembra tutto strano Sono mancati un sacco davvero Oggi, vabbè, andrò a fare il tatuaggio Ma la cosa più importante è che Oggi verrà una cantante nella Stardust House E non vedo l'ora di farvi vedere chi sarà Però prima voi, nei commenti, dovrete indovinare E poi vedrete chi sarà E se avrete indovinato Quindi, tutti qua sotto a commentare Sì, vabbè, vabbè Bravo, bravo, bravo Lui le sa tutte, le sai tutte Dio che fastidio Però mi si ferma il battito Quando mi incontro per strada Sembra un termine di compagno Siamo super grafico E' un gioco di un calcio Un calcio Un elastico Dio che fastidio Oh bro sei pronto? Sei pronto? No però fa niente No non sei pronto? Sì sì Ti stai cagando tutto? No no Stavolta sono pronto Ah stavolta è pronto Stavolta è pronto Stavolta è pronto Quindi non svenirai stavolta Sperai niente Sperai niente Allora frate Allora Per ora tutto bene Guardalo Per ora tutto bene Ok Ma bro stai a morire? Ti fa malissimo No povero Povero Ti fa malissimo Sembra che è morto Oh Stai svegliando Stai svegliando Stai morendo dentro Allora È un bel sorriso però È un bel sorriso Dunque raga Il tatuaggio L'ho fatto Però per andare a vederlo Dovete andare su Insta Perché oggi Proprio oggi Quando vedrete questo video Uscirà una foto su Instagram Alle 6 E È una bomba Quindi tutti A vederlo su Instagram Va vieni 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 Vlog nel vlog Siamo entro Vai Sei pronto? È sempre un buon giorno Vai Bella a tutti ragazzi È ben tornato in questo nuovo video vlog Bella Comunque raga Noi siamo tutti qua La cantante è arrivata Ok Let's try again Come se fosse casa mia Scusa Ok Comunque raga siamo qua con Gaia Oddio scusami Un saluto al vlog Raga questo vlog può arrivare al termine Stiamo facendo un botto di casino E Oggi sono successe un sacco di cose Davvero troppe E boh Cioè Gaia La vincitrice di amici Qua Nella Stata South E niente raga Io adesso vado a rilassarmi un po' in piscina E comunque raga Se vi è piaciuto il video mettete like Iscrivetevi Perché siamo arrivati a 100.000 Qui su YouTube Cioè io Io vi amo Qua c'è la magnifica piscina E Boh raga Davvero Mi fa cosa dire 100.000 100.000 Stracontento di essere tornato A fare i vlog su YouTube Insieme a voi E Bella Grazie 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 Grazie